Ciao a tutti, con questo video voglio presentare una poesia d'amore di Konstantin Simonov, Aspettami e Dio tornerò. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. E veniamo alla poesia di Simonov. Aspettami e Dio tornerò, ma aspettami con tutte le tue forze. Aspettami quando le gelle e le piogge ti ispirano tristezza. Aspettami quando infura la tormenta. Aspettami quando c'è caldo. Quando più non si aspettano gli altri, obbligando tutto ciò che accadde ieri. Aspettami quando da luoghi lontani non giungeranno mie lettere. Aspettami quando ne avranno abbastanza tutti quelli che aspettano con te. Aspettami ed io tornerò. Non augurare del bene a tutti coloro che sanno a memoria, che è tempo di dimenticare. Credano pure, mio figlio e mia madre, che io non sono più. Gli amici si stanchino di aspettare e stretti intorno al fuoco bevono vino in memoria dell'anima mia. Aspettami e non ti affrettare a bere insieme con loro. Aspettami ed io tornerò adonta di tutte le morti. E colui che non mi aspettava, dica che ho avuto fortuna. Chi non aspettò non può capire come tu mi hai salvato in mezzo al fuoco con la tua attesa. Solo noi due conosceremo come io sia sopravvissuto. Tu hai saputo aspettare semplicemente come nessun altro. Bellissima questa poesia d'amore che va oltre la morte di Costantin Simonovi. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Toramasco. Iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere. Di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.